Il nostro progetto riguarda l'apertura di un nuovo albergo destinato ad un pubblico di sportivi e salutisti con lo scopo di soddisfare il benessere personale e con una cucina specializzata. L'albergo sarà localizzato a Malcesin e grazie alla sua posizione strategica permetterà di praticare sport estivi di invernali ed escursioni turistiche sul nostro fantastico territorio. Il nostro albergo per valorizzare il lago di Garda e il Monte Baldo e per dare un tocco di internazionalità si chiamerà Garda Passport International Hotel. Il nostro hotel 4 stelle, situato sul lago di Garda, offre un soggiorno confortevole per tutti gli amanti dello sport e della natura del benessere e per chiunque voglia vedere della bellezza del nostro paesaggio lacustre. Garda Passport International Hotel dispone di un efficiente e garantito servizio ristorativo con piatti di cucina macrobiotica, proteica e naturale, di strutture sportive alla vanguardia come biker e palestra, di un centro benessere dotato di cabine massaggio, piscina interna ed esterna, per un'area wellness e infine di un campo da tennis. Sono inoltre disponibili su richiesta trattamenti shatsu, massaggi bonificanti e consulenti alimentari e sportive. Grazie alla nostra posizione turisticamente favorevole, offriamo sconti e abbonamenti con i circoli natici, la funiglia panoramica di Marcesne e negozi di non-leggetizzature sportive. Garda Passport International Hotel dispone di un'offerta integrata e completa che va a soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e variegato, ma caratterizzato l'interesse particolare per lo sport, la salute, il benessere, la vita all'aria aperta e in coppia e in famiglia. Garda Passport International Hotel ammira a valorizzare il territorio e a destagionalizzare l'offerta turistica. Il nostro hotel è indirizzato a sportivi e persone che sono interessate al nostro spleno territorio e ad uno stile di vita equilibrato e alimentazione sana. La concorrenza diretta nel territorio è molto limitata, in quanto circoscritta a pochi alberghi che offrono servizi singoli. Garda Passport International Hotel Your Passport to Heaven Sono Matteo, Giorgia, Alberto, Alessandra, Daniela, Sara